La verità, questa è una delle più belle strutture delle Marche, una casa della salute importante, al servizio come il distretto di Pesaro, la struttura ospedaliera di una comunità. Qui in Montecchio, dove c'è la casa della salute, c'è un bacino di circa 50.000 abitanti. È stato un investimento importante di oltre 2 milioni di euro, una casa della salute bellissima efficiente, importante, appressata dai cittadini di questo territorio, va rafforzata e robustita con altri servizi. Per riassumerla in maniera semplice, per far capire ai cittadini, tutto quello che non è ospedale uno dovrebbe poterlo trovare qui. Parlo di un rafforzamento della medicina specialistica relativamente alla medicina del lavoro, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla medicina sportiva, perché uno deve andare a Pesaro, a Fano, a Urbino, magari in Romagna, quando può trovare un servizio qui. Ecco, la terapia del dolore che già in parte è stata fatta, c'è stata una presenza qui, va rafforzata e robustita. Diciamo, questo è un luogo di tante imprese, l'Asur ha anche il controllo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro, quindi la medicina del lavoro. Diciamo, tutti quei servizi che uno può avere qui sul territorio, tutta quest'area che è oltre 50 mila abitanti, con tantissime imprese, se invece di recarsi a Urbino per uno specialista la trova qui, pensiamo che sia una cosa giusta. Quindi diciamo come Unione dei Comuni, di cui sono Presidente, insistiamo perché le politiche di tutela della salute, le politiche sociali, siano gestite insieme dall'Unione dei Comuni, dall'ambito sociale e la gente percepisca un servizio sempre più di alta qualità. La lettera al nuovo assessore, che spero di avere modo di conoscere, al nuovo Presidente della Giunta regionale, per far capire l'importanza e per mettere a frutto anche questo investimento importante che è stato fatto qui a Montecchio per un bacino di oltre 50 mila abitanti e pensiamo che possa essere ulteriormente rafforzato. Un'ultimissima cosa, anche un potenziamento per quanto riguarda l'orario, lo ha già fatto in precedenza, la richiesta di apertura il sabato mattina qua della Casa della Salute per permettere anche a chi durante la settimana lavora di poter venire a fare le visite. Ma noi l'abbiamo già fatto come Comune di Vallefoglia, i nostri servizi sociali, servizi scolastici, anagrafe, stato civile, sono aperti sabato mattina dalle 9 a mezzogiorno. Se poi bastano un paio d'ore, si terranno anche un paio d'ore, la gente che lavora il sabato mattina ha necessità di poter fare quello che non riesce a fare durante tutta la settimana perché lavora. Quindi se si riesce a fare quanto prima anche l'apertura il sabato mattina e poi il potenziamento del servizio di 118, quella che in tempo si chiamava radiologia, che oggi sono tecniche più moderne, però uno deve andare a farla a peso, lo fa, insomma sono tanti i servizi che sono tutti scritti in questa lettera e io spero di avere delle risposte positive.